Una parola per noi Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin Buongiorno, ve l'immaginate un individuo che va in giro gridando State lontani, non avvicinatevi, cambiate marciapiede Ecco, i lebrosi duemila anni fa dovevano comportarsi così Erano esclusi e marginati sotto tutti i punti di vista Come saremmo noi se dovessimo vivere totalmente isolati gli uni dagli altri Senza rapporti con nessuno Siamo fatti in modo tale che non possiamo prescindere dalle relazioni Anzi, noi valiamo in base alle relazioni che coltiviamo Non sono poche le persone che pur vivendo in mezzo ad altra gente In realtà sono perennemente sole O perché non hanno relazioni con nessuno Oppure se ne hanno o sono estremamente povere, superficiali Abbondano coloro che diventano diffidenti Quando si tratta di entrare in relazione con sconosciuti Questa diffidenza oggi è molto diffusa Ci si difende in tutti i modi dalla complessità sociale Si nutre paura nei confronti dei molti stranieri che si incrociano Anche perché tra loro a volte si annida la delinquenza E in tal modo si costruiscono steccati e muri C'è anche chi strombazza e predica la chiusura La difesa ad oltranza, il rifiuto Di questo passo il futuro non potrà che essere di emarginazione Ma chi saranno gli emarginati? Quelli di là dagli steccati o quelli al di qua? Il Vangelo a questo riguardo parla chiaro Gesù incontra un lebroso Lo guarisce, sì, ma straordinario è il modo in cui lo fa Lo tocca Se l'avessero visto i farisei L'avrebbero immediatamente lapidato Ma non bastava un intervento a distanza Fu la relazione a recuperare quel lebroso alla dignità, alla vita Gesù che tocca quel lebroso è Dio che vuole entrare in relazione con ogni persona Allora non c'è motivo di aver paura ad aprirsi a realtà e a culture diverse dalla propria Se Gesù è con noi e noi siamo con lui Non c'è motivo di erigere steccati o muri Perché gli steccati e i muri testimoniano solo la debolezza di chi li costruisce Se Gesù è con noi e noi siamo con lui Anche la novità, anche la complessità può diventare occasione provvidenziale Per verificare la consistenza della nostra fede Per arricchirci umanamente di valori che noi forse stiamo perdendo O abbiamo già perduto Il cristianesimo del resto è cominciato proprio così Un gruppo, una percentuale insignificante di donne e di uomini Ha avuto il coraggio di entrare in relazione con un mondo estremamente complesso Se non addirittura ostile Se Gesù è con noi e noi ci lasciamo toccare da Gesù Tutto questo è ancora possibile Anche ai nostri giorni Buona domenica Una parola per noi Commento al Vangelo della Domenica A cura di Don Piero Rattin